Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale TV City. In apertura, l'emergenza sanitaria. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il suo primo DPCM, nuove chiusure e limitazioni, fino al 6 aprile 2021. Punto sull'emergenza Covid nei comuni del Vesuviano, quattro morti registrati ieri a Torre del Greco e boom di contagi a Castellammare. E' polemica invece sull'ospedale Maresca, dopo il trasferimento di alcuni anestesisti al Covid Hospital di Bosco Trecase, insorgono i sindacati. Passiamo ora alla cronaca con il sequestro di 400 mila euro, operato dai finanzieri di Torre Annunziata nei confronti di un'impresa di Sant'Antonio Abate. Ancora degrado invece alle 100 fontane di Torre del Greco. Il sito storico della città è di nuovo preso in mira dai rifiuti di ogni tipo, fra cui moltissimi ingombranti. In chiusura lo sport, con la Turis che subisce una nuova battuta d'arresto, perdendo 2 a 1 contro il Potenza. Questo ed altro nei nostri servizi. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato oggi il nuovo DPCM che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021. Confermato fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Resta anche la divisione delle regioni italiane in zone, caratterizzate da fasce di colore differenti. Nelle zone bianche si prevede la cessazione e le misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anticontaggio generali, come per esempio l'obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali e i protocolli di settore. Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti. Si istituisce un tavolo permanente presso il Ministero della Salute con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato Tecnico Scientifico e dell'Istituto Superiore di Sanità, per monitorare gli effetti dell'allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori. Dal 6 marzo si prevede nelle zone rosse la sospensione dell'attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Invece, nelle zone arancioni e gialle, i presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell'attività scolastica, nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti, nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100.000 abitanti nell'arco ai 7 giorni o, infine, nel caso di un'eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico. Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l'apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Si prevede, a partire alla stessa data, anche la possibilità di riaprire teatri e cinema, composti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala. Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici. In tutte le zone è eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. Nelle zone rosse saranno chiusi servizi alla persona, come parrucchieri, barbieri e centri estetici. Si amplia il novero dei paesi interessati dalla sperimentazione dei voli cosiddetti covid-tested. Acchiestato in Brasile nei 14 giorni precedenti, è consentito l'ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori. È istituito un tavolo di lavoro di confronto presso il Ministero della Salute, con componenti in rappresentanza dell'Istituto Superiore di Sanità, delle Regioni e delle Provincie Autonome, del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie e del Comitato Tecnico Scientifico, con il compito di procedere all'eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti. Ancora a decessi tra le persone anziane positive al covid-19 a Torre del Greco, dove nelle ultime 24 ore sono state registrate altre 4 vittime. A comunicarlo il sindaco Giovanni Palumba, che ha fatto sapere come abbiano perso la vita cittadini di 80 anni, 87, 77 e 75 anni. Per gli ultimi tre la positività è stata accertata solo dopo il decesso. Sale così a 113 il numero delle persone morte da inizio pandemia. Resta grave anche la situazione dei contagi, un'emergenza che ha indotto il primo cittadino a rafforzare i controlli contro gli assembramenti e per il rispetto delle norme in vigore. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi segnalati da Asla Napoli 3 Sud e unità di crisi sono stati 18, a dispetto di 5 guarigioni. Dati questi che portano il numero complessivo degli attuali positivi a quota 967, con 55 soggetti che risultano ospedalizzati. Un morto anche a Torre Annunziata, si tratta di un uomo di 75 anni. Sono 28 invece i nuovi casi di contagio a fronte ai 242 tamponi effettuati, con l'indice di positività che si attesta all'11,57%. Al contempo si registrano anche 63 guarigioni. Scende a 757 il numero di cittadini attualmente positivi, di cui 40 con la cosiddetta variante inglese. Stabile la situazione anche a Dercolano, con 34 nuovi positivi a fronte ai 12 nuovi guariti. In totale, al momento, si registrano 438 cittadini positivi, 41 dei quali con variante inglese, mentre i guariti sono in totale 2239. Boom di contagio invece a Castellammare di Stabbia, dove sono 151 i cittadini risultati positivi nella giornata di ieri. Tra i nuovi contagiati ci sono 12 bambini, tra i 2 e i 9 anni, 20 ragazzi tra i 10 e i 17 anni ed 8 persone tra i 82 e i 92 anni. Sono stati lavorati complessivamente 644 tamponi, 18 invece i guariti. Emergenza anestesisti divisi tra due ospedali. Il sindacato dei medici diffida l'ASL. Dallo scorso 25 febbraio, gli anestesisti rianimatori, in turno di notte all'ospedale Maresca di Tore del Greco, sono stati dirottati al Covid Hospital di Bosco Trecase per far fronte alla grave carenza di personale medico e in attesa che venga espletato il concorso per l'assunzione di 15 anestesisti. Un'organizzazione che metterebbe a rischio sia i pazienti che gli operatori sanitari. Di notte e nei festivi, infatti, operativo a Tore del Greco, un anestesista in pronta disponibilità. Una scelta considerata non conforme a quanto previsto dal contratto di lavoro, dal sindacato dei medici, che ha diffidato l'ASL dall'assumere altri comportamenti palesemente illegittimi. Al Maresca di mattina si operano pazienti di ortopedia, chirurgia generale, chirurgia vascolare e non solo, molte volte ad alto rischio operatorio, senza contare quelli Covid ricoverati nel reparto di medicina che potrebbero necessitare di assistenza. Secondo quanto previsto, infatti, dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva si prevede esclusivamente la pronta disponibilità integrativa, per il semplice fatto che un'eventuale emergenza medica va affrontata nel più breve tempo possibile, come un edema polmonare o un arresto cardiocircolatorio, il che significa che non si può attendere l'arrivo dell'anestesista di pronta disponibilità in circa 30 minuti. Una scelta necessaria per l'azienda per scongiurare la chiusura della terapia intensiva al Covid Hospital di Bosco Trecase e considerato che al momento il pronto soccorso del Maresca è stato disattivato e che le attività chirurgiche sono rivolte esclusivamente a ricoveri in elezione. Intanto il caso Maresca torna all'attenzione della politica locale con un consiglio comunale monotematico in programma martedì 9 marzo a Palazzo Baronale. Invitati a partecipare anche il direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto, e la consigliera regionale Loredana Raia. Un copione già visto negli anni, senza però risultati concreti per la collettività e nonostante la mobilitazione di comitati e associazioni, a salvaguardia della salute pubblica. Il gruppo della Guardia di Finanza elettore annunziata ha dato esecuzione tra le province di Napoli e Salerno ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente di beni per un valore di oltre 400 mila euro nei confronti di una società di import-export operante nel settore dell'imballaggio e confezionamento di genere alimentari, con sede del Comune di Sant'Antonio Abate. La misura cautelare patrimoniale è stata emessa all'esito di approfonditi accertamenti di natura economico-finanziaria sviluppati dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica dittore annunziata, avviate a seguito di un'attività fiscale che ha permesso di ricostruire a carico della citata società l'omesso versamento di riletture incertificate operate nei confronti dei dipendenti, configurando la fattispecie prevista e punita all'articolo 10 bis del Decreto Legislativo numero 74 del 2000. La condotta illecita emersa, oltre all'indebito risparmio d'imposta, ha consentito all'impresa di collocarsi sul mercato in una posizione di rilievo nello specifico settore commerciale, distorcendo le regole della libera concorrenza. Il provvedimento ablativo eseguito ha portato al sequestro di 212.000 euro di partecipazioni azionarie societarie, di cui 15.300 euro di proprietà di una società olandese, e di 95.000 euro presso conti correnti per complessivi 307.000 euro nei confronti della società e del rappresentante legale. Ancora degrado intorno alle cento fontane. Non c'è pace per uno dei più importanti monumenti storici di Torre del Greco. Poche settimane fa alcuni volontari avevano pulito l'intera zona da rifiuti di ogni tipo, ma l'inciviltà ha nuovamente preso il sopravvento. L'intera area circostante al sito è invasa da sporcizia e immondizia depositata illecitamente. Sia su via Fontana che negli ingressi di via Calastro sono stati ammassati cumuli di sacchetti. Ciò che sconvolge maggiormente, però, è la presenza di numerosi ingombranti. Pezzi di mobilio sono ovunque e circondano l'intera area, da cucine dismesse a pezzi di camere da letto, fino all'ormai solito materasso abbandonato. Tutti scarti che sono stati abbandonati lì da aggiorni e mai raccolti. Ovviamente quello che colpisce maggiormente è l'inciviltà di chi, ostinatamente, continua a deturpare un patrimonio inestimabile per la città, utilizzandolo come una discarica a cielo aperto. Tuttavia, è assurdo anche che questa situazione si riproponga costantemente, senza che l'amministrazione metta in campo azioni per impedire lo scempio. Oltre a provvedere immediatamente a bonificare l'area in queste circostanze, urge un controllo diffuso e costante che blocchi sul nascere i comportamenti incivili. È assurdo pensare che ai piedi di Palazzo Baronale qualcuno possa depositare indisturbato un materasso usato, una cartolina negativa che continua a ripetersi. Nuova sconfitta per la Turis che non riesce a dare seguito alla vittoria di sabato scorso contro la Casertana e cade allo stadio Viviani al cospetto di un potenza apparso molto più più in palla. I rosso-blu padroni di casa partono con freno a mano tirato, a metà primo tempo lasciano al Moldavo Bojciuk la migliore occasione per portare in vantaggio la Turis, poi si rendono più volte pericolosi centrando due legni in pochi minuti, prima con Mazzeo che centra la traversa da pochi passi e subito dopo con Di Livio che da lontano coglie il palo. Alla mezz'ora Coccia subisce fallo in area e Baclet trasforma il rigore del vantaggio Lucano. Nella ripresa ancora il potenza a fare la partita e a trovare il raddoppio con un bel tiro dal limite con Sandri che batte a Bagnale per il 2-0. A pochi minuti dalla fine Romano colpisce di testa sul calcio d'angolo e accorce le distanze ridando speranze di pareggio alla Turis, ma il risultato non cambierà più. I corallini non riescono quindi ad allungare sulle dirette inseguitrici nella corsa salvezza e ora dovranno fare i conti con un calendario che appare complicato già dal prossimo match interno di domenica prossima contro il Foggia. Per Mr. Canelli e i suoi uomini subito la possibilità di riscattarsi tra le mura amiche. Grazie per la cortesa attenzione. Per info e segnalazione potete contattarci alla mail redazione chiocciola tvcity.it o al numero di telefono 340 65 61 484. E con questo è veramente tutto. Io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi. Grazie per la visione.